Buonasera dal Tg regionale della Campania. Il commissario all'emergenza Legnini ha presentato il piano di interventi per la messa in sicurezza di Ischia dopo l'alluvione del 26 novembre scorso. Un calendario articolato in tre fasi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giovanni Messina. Positivo quello che c'è nel decreto su Ischia ma è solo un primo passo. Lo ha detto parlando in videoconferenza con i cronissi il commissario per l'emergenza Giovanni Legnini che poi ha illustrato il piano degli interventi da realizzare sull'isola per prevenire il dissesto idrogeologico e scongiurare tragedie come quella avvenuta il 26 novembre scorso. L'ordinanza firmata da Legnini prevede innanzitutto la pulizia degli alvei e delle cave naturali del Monte Pomeo, opere di consolidamento dei versanti, costoni e muri di contenimento e di ripristino della morfologia dei pendii. I detriti saranno trasferiti in siti di deposito temporanei. Soggetto attuatore degli interventi sarà la SMA, Società della Regione Campania. Il commissario del comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, ha poi aggiunto che tra un mese sarà operativa una sala della protezione civile ora in corso di allestimento. E proprio a Casamicciola, l'istituto comprensivo Ibsen, si è tenuto un incontro di educazione al rispetto dell'ambiente organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale. Sono fondamentali le opere strutturali quando vogliamo mettere in sicurezza il territorio, ma sono altrettanto fondamentali gli interventi non strutturali, quali la pianificazione, il monitoraggio e l'educazione ambientale.